ricevere all'aperto per me è uno dei grandi piaceri dell'estate voglio darvi qualche consiglio per allestire al meglio il vostro buffet ad esempio per un barbecue innanzitutto dovete predisporre sempre due punti diversi del buffet uno come questo dove sistemerete le bevande i piatti puliti ed eventualmente il cibo e poi un altro a parte separato dove i vostri ospiti potranno sistemare a mano a mano che consumano le pietanze tutto quello che a loro non serve più le bevande in estate si scaldano in fretta si sa quindi ricordatevi di sistemarle sempre in un bel cestello pieno di ghiaccio cosa dire dei tovaglioli beh per un barbecue si possono sicuramente utilizzare quelli di carta però mettetene tanti e assicuratevi che siano veramente di buona qualità ce ne sono di bellissimi e di colorati che per l'estate vanno davvero bene infine la quantità quanti piatti quanti bicchieri e quante posate allestire per un buffet considerate sempre un pezzo e mezzo per ogni persona quindi se avete 10 ospiti 15 piatti